amici carissimi di auto occasioni preparatevi perché oggi la puntata vi piacerà moltissimo ci troviamo in corso urbassano 472 siamo da central motors e in particolare nel centro di visione usato dico che vi piacerà moltissimo perché diciamolo in questo momento siamo allettati dalle occasioni e qui siamo davvero nel regno delle occasioni perché abbiamo davvero un numero elevatissimo di vetture d'occasione appunto tra le quali potrete scegliere dalle urban dalle vetture più contenute ai suv potrete scegliere gli allestimenti potete scegliere il colore insomma c'è davvero da divertirsi quindi seguitemi iniziamo con una vettura che ha letta moltissimi di voi ovvero con una toyota yaris cross 1.5 hybrid con un allestimento business pensate che questa vettura è stata immatricolata nel 2022 e potrà essere vostra a 24.900 euro e per tutti gli amanti di casa peugeot guardate la grinta e la meraviglia di questo peugeot 208 1200 gt line pensate che ha percorso appena 13.000 chilometri e può essere vostra a 17.500 euro cosa c'è di meglio che muoversi comodamente anche in città con questa bellissima toyota yaris 1.5 hybrid che può essere vostra a 17.900 euro e ancora più conveniente questa toyota yaris 1.5 hybrid che ha percorso appena 18.000 chilometri e può essere vostra a 15.450 euro una splendida toyota corolla 1.800 hybrid che ha percorso poco più di 60.000 chilometri e potrà essere vostra a 19.450 euro e lei è l'intramontabile panda che ci piace sempre tanto questa è una panda 1000 pensate che ha percorso pochissimi chilometri appena 8.000 e potrà essere vostra a 14.900 euro e qual è la più amata dagli italiani ma è sempre lei la fiat 500 in questo caso abbiamo una fiat 500 1200 lounge pensate che ha percorso appena 18.000 chilometri e potrà essere vostra a 10.900 euro per gli amanti di casa volkswagen abbiamo una golf 1000 benzina che ha percorso 30.000 chilometri e potrà essere vostra a 15.900 euro lo sapete che una vettura con garanzia toyota approved è sottoposta a un controllo completo da tecnici specializzati e ha un'estensione di garanzia fino a 12 mesi ed ecco un esempio per tutti gli amanti dei SUV una splendida toyota rav4 2005 hybrid ad appena 21.700 euro è un carissimo saluto dopo questa splendida puntata da parte del centro di visione usato di central motors in corso orbastano 472 a torino vogliamo continuare a stupirvi e quindi ci siamo spostati a moncalieri nel centro di visione usato di corso savona 30 tante proposte ci aspettano e dunque procediamo e da casa kia abbiamo una kia stonic 1400 gpl una vettura davvero comoda e spaziosa pensate che è stata immatricolata nel 2018 ha percorso 39.000 chilometri e può essere vostra a 16.400 euro sempre accattivante la nostra lancia y in questo caso abbiamo una bellissima lancia y 12 benzina pensate che ha percorso appena 70.000 chilometri e può essere vostra a 9.300 euro ed ecco a voi una ford ecco sport 1000 benzina titanium è stata immatricolata nel 2020 ha percorso 26.000 chilometri e può essere vostra a 17.800 euro per gli amanti di casa kia abbiamo una bellissima kia rio 12 gpl allestimento cool pensate che è stata immatricolata nel 2016 ha percorso 86.000 chilometri e può essere vostra a 8.300 euro un vero mito questa alfa romeo 1400 benzina super immatricolata nel 2017 ha percorso 29.000 chilometri e può essere vostra a 11.100 euro ancora in casa kia per questa kia nero 1.6 full hybrid pensate che è stata immatricolata nel 2021 ha percorso 38.000 chilometri e può essere vostra a 19.200 euro e per gli amanti della vettura abbiamo una splendida jeep renegade 1400 gpl immatricolata nel 2016 ha percorso 86.000 chilometri e può essere vostra a 15.450 euro con toyota approved l'usato non è mai stato così nuovo come anticipato vi ricordo che tutte le vetture sono sottoposte ad un controllo completo da parte di tecnici specializzati e godono di una garanzia toyota approved come questa toyota yaris 1500 full hybrid del 2018 50.000 chilometri 13.300 euro una bellissima puntata dove vi abbiamo mostrato tantissime vetture ma pensate che questa è solo una piccola selezione dovete venire a trovarci in corso savona 30 a moncaglieri per scoprire veramente il mondo di vetture a vostra disposizione un saluto carissimo da parte naturalmente di auto occasioni e da parte di central motors centro di visione usato www.se dissupa www.se традиzionale.com www.se